In questo momento siamo questi, per di più abbiamo pure Pepe squalificato, quindi abbiamo un giocatore in meno ancora a disposizione, con qualche altro da gestire per quanto riguarda la condizione atletica. Incontriamo una squadra che sta facendo benissimo, un gruppo forte che viene in un campionato vinto d'eccellenza e lo dimostra il fatto che oggi hanno vinto a Giuliano su un campo difficile, quindi mi aspetto una partita contro una squadra difficile, ma noi dobbiamo in un modo o in un altro fare una prestazione anche migliore di questa di oggi, perché ci serve assolutamente i tre punti, perché i ragazzi coprono dentro la voglia di esultare, di portare via un risultato importante. Sicuramente per mercoledì non so se facciamo in tempo a inserire qualche altro giocatore, però qualcun altro sicuramente arriverà e qualche giocatore fresco mercoledì sarà in campo, perché magari qualcuno oggi è partito dalla panchina, qualcuno non è entrato per niente, sicuramente qualcosa cambieremo per portare forze fresche alla squadra.